Non sarà facile trovare spazi e soprattutto bisognerà stare attenti alle ripartenze. Ora Dunfris, ancora sull'auto di destra, indietro per D'Ambrosio, c'è il pressing timido di Manai. D'Ambrosio ha tempo per dare la palla in orizzontale a Skriniar, anzi a Dandanovic che esce dall'area di rigore, serve Skriniar. Ancora sulla sinistra per Bastoni, ottavo di gioco, ancora una volta Bastoni schermato da Ghiasi, deve tornare su Skriniar. Gianni, primi otto minuti di gioco? Beh, è una partita che l'Inter mi sembra che stia giocando con grande sicurezza, con tranquillità, però lo Spezia non ha messo il pullman davanti alla porta, anzi ha avuto un'occasione anche importante. Per adesso, insomma, è troppo poco per capire ancora come si involverà. Prova a crossare, deviazione, favorisce ancora Perisic, cross lungo sul secondo palo, Dunfris qua commette fallo. Non secondo là, sì, calcio di punizione, giusto. Qua Dunfris sbaglia perché il pallone è molto alto di Perisic, l'unica cosa che Dunfris non deve fare è appoggiarsi sulla schiena, fallo che cerca il giocatore del Bastoni. Bastoni lo cerca molto, si guarda indietro, poi però il contatto c'è, Dunfris qui si doveva un pochino levare perché è chiaro che poi nel momento in cui in area di rigore c'è questo tipo di contatto, l'arbitro fisca e fallo in attacco. C'è la Noglu invece, Mario, nelle ultime partite? Onestamente non ha ancora toccato pallone, da quando è iniziata la gara. No, l'apertura per Barella l'ha fatta lui. Sì, però onestamente in nove minuti mi sembra un po' poco, ecco, quindi... Lo vuoi più nel vivo? La cosa che mi auguro è che prenda coraggio nel tirare da fuori aria perché... Ammonito. Perché uno dei motivi del perché è arrivato a giocare all'Inter era oltre che per calciare da fermo, anche per provare a portare qualche problema agli avversari da fuori aria, ma onestamente è un po' di tempo che ha rinunciato a tirare in porta. E mi auguro che oggi, visto e considerato che invece, secondo me, la Spezia ha parcheggiato il pullman davanti alla porta, perché è proprio quello che sta facendo, non fa pressione fino alla centrocampo avversaria. Beh, si chiude, riduce gli spazi. Si, si è chiusa e quindi a questo punto il calcio da fuori potrebbe essere... Però non è proprio il pullman all'Atletico di Madrid. Allora, primo giallo della partita è Barella a terra dolorante. Sì, allora, giallo è di bastoni per farlo su Cialanoglu. Poi invece c'è stato un contrasto sulla tre quarti dello Spezia. Mi pare fosse Maggiore, ma non ho visto bene. Con Barella salta Maggiore con i pugni davanti e il ginocchio davanti. I due si scontrano. Il ginocchio di Maggiore va sullo sterno di Barella, cosa molto dolorosa. Rimane a terra balera, ma se è già ripreso. Anche Cialanoglu si è già ripreso. Comunque alla fine è un cartellino giallo per bastoni. Ma lo Spezia è chiuso molto bene, quindi è difficile trovare spazi. Lorenzo, d'accordo con il giallo a bastoni? Sì, mi pare fosse Kivior. Sì, ci poteva stare. Bisogna essere sportivo. Il fallo c'è stato. Comunque mi pare fosse Kivior. Kivior su Maggiore. Correggimi, finisco. No, no, può darsi la ragione tu. Guarda, io non l'ho visto bene, quindi sicuramente hai ragione tu. Comunque la dinamica è quella e ci sta. Ci sta, Paolo, ci sta. Comunque non dico proprio Pullman io, se posso dire. Però sì, partita accorta dello Spezia, ve l'ho detto dal momento in cui ho visto la formazione con Kovalenko. Insomma, ci sono delle accortezze tattiche. Corner, corner per lo Spezia. Dodicesimo di gioco. Corner dalla sinistra. Vediamo chi si incarica della battuta. C'è stata la deviazione di Dunfri sul cross. Quadratto in zaghi. Vediamo un po' chi si incarica della battuta. Mi pare bastoni col sinistro. Mi sembra da lontano, mi sembra di vedere lui. Arriva il cross. In area! Palla messa fuori. Vediamo chi ci arriva prima. Ci arriva Ciala. Ciala dietro per Zeko. Poi Correa. Vediamo se riusciamo a partire in contrapiede. Correa perde il pallone. Poi Zeko lo recupera di nuovo. Bene, dai, dai, dai. Ripartiamo. Correa però ti devi svegliare. Ancora Zeko. Allarga tutto sulla destra per Barella. E qui però lo Spezia è tornato nelle proprie posizioni. Ora Brozzo. Niente, adesso lo Spezia è schierato. Quindi non c'è spazio per affondare il contrapiede che poteva essere innescato con la palla rubata da Zeko. Dopo quella che ha perso da Correa. L'Inter deve alzare il ritmo se vuole fare la partita. Ma il problema nostro è che quando ci sono queste situazioni non abbiamo dei veri e propri contrapiedisti come potevamo averli l'anno scorso. Quelli che proprio mettono paura agli avversari. I primi 20 minuti col Verona però avevano un altro ritmo. È vero che giocavano in casa. Capito. Verona è una squadra che gioca in maniera diversa. Attenzione. D'Ambro. Zeko. No. Poi c'è un fallo. Non ci credo. Fallo fuori gioco di D'Ambrosio, credo. Vediamo un po'. Quindi l'azione è stata annullata. Il lancio di Brodowicz per D'Ambrosio non c'è niente qua mi pare. Fuori gioco no. Non so cosa abbia fischiato. Fuori gioco no. Fuori gioco no di sicuro. Vediamo un po'. Qua non c'è. Cos'ha fischiato? Fallo di Dzeko. Fallo di Dzeko. Forse. Ma questo è fallo di Dzeko. No, no. Questo no. Quello dopo. Forse il braccio. Dzeko spinge e recupera la palla. Forse il pallone che arriva sul braccio. Ma per me non c'è niente. Io non avrei fischiato nulla. Comunque ha preso il palo quindi non ha fatto gol. Ah, Bastoni va giù. Fallo. Però ecco, il problema è questo. Si fischi ogni cosa nel momento in cui un giocatore va giù. Vediamo qua cosa è fallo. Sì, qua è netto. Qua è netto. Manai va a prendere proprio la caviglia di Bastoni con un calcio da dietro, uno sgambetto. Lorenzo, ho detto che Dzeko l'ha comunque sbagliato. Quindi l'episodio della Moviola no. Però c'era il fallo come era avvisato Maresca o troppo fiscale l'arbitro? Ma sai, in quei contatti di gioco lì, poi a discrezione dell'arbitro, forse può essere stato anche molto fiscale, insomma, no? Cioè sicuramente è stato fiscale, però ci può stare, insomma, ne ho visti dare anche di peggiori. Siamo all'episodio, stanno ne abbiamo visti di tutti i colori. Sono sportivo, lo ammetto, però ci stava, dai. Ci fermiamo due minuti? Torniamo subito, ragazzi. Inizia l'azione e la conclude Brozovic, tre quarti di sinistra, lancio su in area di rigore e il cuore d'Ambrosio, bravissimo, si inserisce di testa, la ridà per l'inserimento ancora di Brozo, che la palla sul sinistro la mette sotto l'introcio, di prima intenzione, un gol bellissimo, 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 Marcello Brozovic! Dai ragazzi, dai, 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 che bello! Brozo, D'Ambro, testa, palla indietro, Brozo di prima, bellissimo. Grande conclusione di Brozovic, Lorenzo, difesa dello Spezia, brutta, cioè grande spazio, grandissima, prateria, lasciato troppo spazio, è un giocatore pericoloso, non doveva riuscire La sponda di D'Ambrosio di testa, è perfetta però, è comunque lenta, e qua nella terra di nessuno si inserisce molto bene Brozovic, coordinazione splendida col sinistro, palla quasi all'incrocio, però nessun difensore spezzino che gli vada in conto, almeno a cercare di contrastarlo, quindi spazio libero, poi Brozovic fa un gran bel gol, ovviamente. Mario? Sì, 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 molto bene. Se ce lo convalidano, perché vedo Filippo che non è molto... No, ho dei dubbi sulla posizione di D'Ambrosio. Sì, qualche piccolo dubbio là. Infatti c'è un check. Lo dico dopo il check, allora. C'è il check. C'è il check. C'era stato, sì, c'è stata un'idea di fuorigioco. No, allora, siamo appiccicati, però è lì... Per me è più no che sì, figurati, però... Non lo so, dipendendo di contrastarlo. Quando parte la palla di Brozovic, dov'è D'Ambrosio? Io ho dei dubbi. Stiamo parlando di millimetri, ma stiamo parlando di possibili fuorigioco. Vediamo. Eh, bu. Per me no. Sinceramente non capisco. Così, a velocità. E andiamo! Gol, gol, gol. Allora, adesso lo posso dire. Grande azione, ma soprattutto grande presenza in area di rigore di D'Ambrosio. Cioè, sta facendo quello che non ha fatto Correa, quello che non ha fatto nessuna delle punte del leader. E quindi grande D'Ambrosio, ancora una volta, che parte sempre, insomma, non agli onori di ogni partita nella quale viene chiamato. Però poi riesce a essere importante. Riesce a essere fondamentale. Lorenzo, vuoi tirare le orecchie un po' ai tuoi? Eh beh, è scappato, credo, a chi dovesse tenerlo dei centrocampisti, Brozovic. Ho visto un maggiore con il seguivano, non so chi è che ha la marcatura sua. Comunque non doveva essere lì da solo in quel momento. Però un gran bel gol. Ecco, questo possiamo dirlo. Diamo l'onore all'Inter, le ha fatto un bel gol, su un errore, diciamo così, leggerezza difensiva dello Spezia. Eh beh, una leggerezza grossa perché D'Ambrosio non sale a due metri e mezzo a colpire di testa. No, ma per me è dopo il colpo di testa di D'Ambrosio che c'è il vuoto. Secondo me sono due le fasi. Il non contrasto a D'Ambrosio, ma soprattutto la prateria che i difensori dello Spezia lasciano e poi giustamente Brozovic ne approfitta, veloce, accorcia e mette dentro. Gianni? Beh, insomma, il gol è bello. Brozovic non si può lasciare da solo. Tant'è che quando giocano il derby gli mettono un signore che lo tiene in marcatura tutta la partita. è un giocatore che sa liberarsi e poi ha fatto questa roba al volo. No, conclusione bellissima. No, bellissima e anche difficile da fare perché tre su quattro vanno a finire in tribuna quando tiri così al volo, però il gol è bellissimo e quindi insomma... Comunque stiamo capendo l'importanza di Brozovic. Adesso è una partita in discesa, credo, per l'Inter perché poi segni a dieci minuti alla fine del primo tempo. Non nutri grandi speranze? No, 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 beh, è andata. Ah, dai, ma fia. È una buffata questa, dai. Mamma mia. Non lo so, chiamatelo che volete. Ma guarda che veramente, far trasmissione con voi milanisti durante le cronache dell'Inter è brutto. C'è una buffata unica dal primo al novantesimo, mamma mia. La cosa difficile in questa partita non è sbloccarle? No, dimmi Filippo. Sì, ma sei un giro di 35. Anche Milano con lo Spezia l'aveva sbloccata. Poi andate lì. Poi, sì, buonanotte. Lì lasciamo perdere l'aspetto con lo Spezia. Beh, vabbè, lì l'arroo. Lorenzo, scusa, tu dell'effetto Serra che pensi? Siamo in maggioranza. Tu dell'effetto Serra che pensi? L'effetto Serra, cosa pensi dell'effetto Serra? Che qua a Milano se ne parla molto. Ah, non lo so. Io guarda, non mi esprimo su queste cose. Salto. Cioè, nel senso, voi state morendo di caldo? Intendi quello? No, no, non lo sanno nemmeno cos'è l'effetto Serra. Serra è l'arbitro di Milano Spezia, no? È un signore con la giacchetta Già. Non convalidò il gol a Messias. Ma lo so benissimo. Ho sentito Gianni che parlava, ma non lo sappiamo, non lo conosciamo. Non lo conosciamo. Ok, tu conosci l'altro effetto Serra. Ok, ok, è chiaro. Non avevo capito io, scusate. Non avevo capito l'ironia. No, era ironia, ironia. Torniamo in cronaca con Filippo. 36 di gioco, siamo entrati nel 36. Sì, 36 di gioco, ma c'è un giocatore dello Spezia a terra. Penso si sia fatto male. Tra l'altro questo è il primo gol di Brozovic quest'anno in Serie A. Sì, sì. Ho visto adesso la statistica. Qua stiamo rivedendo intanto, regolarissimo, D'Ambrosio. Sì, sì. Aspettava noi Filippo, aspettava noi Brozovic. Eh sì, però ragazzi ha iniziato l'azione, l'ha finita, ha fatto un gol pazzesco. Poi tra l'altro il sinistro è di una difficoltà, c'è quella palla che è all'altezza del suo ginocchio. No, no, certo, certo. Però siamo d'accordo che se Brozovic è dalla tre quarti cerca D'Ambrosio qua, D'Ambrosio gli fa la sponda, poi è assurdo che qua non ci sia nessuno. Ma certo. Qua c'è il vero problema è quello. Poi se al posto di Brozovic ci sono io, ti tiro la palla in un suo strato aggressivo. Ma mi fa anche che Brozovic ce la tira in tribuna. Non è famoso per i tirini. Se hai fatto male, Reca, io chiedo, anche se lo sto pronunciando bene, se è Rezza o Reca. Credo che lo si chiami in entrambi i modi. Tu come lo chiami, Lorenzo? È Rezza, Filippo Rezza, è dell'ex Belisa Balcanica. Cos'è lui? È croato. Ok, allora vado su Rezza. Ok. Sì, sì. Tra l'altro Brozovic... Polacco, Polacco. Arcadius-Rezza. Brozovic ce l'ho visto particolarmente dispiaciuto di questo infortunio, perché andava via... Tardevo del gol. Probabilmente, non lo so, o un suo amico, un suo compagno... Ma è Polacco, è Polacco. No, non so, però è andato via proprio... Sconsolato. Ma lui ci ondola sempre, cioè, qualsiasi cosa succeda. Ah, ok, allora... Va bene. Non c'è in entrambiente, secondo me, Rezza. Lui se gli dici, è buono il caffè... Ah, ok. Comunque, Bastoni. Ancora aspetta il timido Pressin di Ghiasi, alleggerisce per Skriniar, 38 di gioco. Skriniar si avvicina a Barella a chiedere palla e si libera D'Ambrosio dall'altra parte. Skriniar poi decide di dare il pallone a Barella. Siamo nei pressi della nostra area di rigore. Brozo, non perdiamola lì, ragazzi. All'indietro per Andanovic. Ancora sulla sinistra, Bastoni. Stoppa il pallone, avanza di qualche metro. Poi verticalizza, va a cercare... Correa con un controllo così così, ma riesce a tenere palla. Poi Brozovi sul pressing dello Spezia. Ancora Brozo. Cambia tutto. Sulla sinistra, cercare Perisic. Ottimo il pallone, libera il croato, che può avanzare di qualche metro. C'è Chiasi che sta facendo un lavoro, poverino, molto dispendioso nell'andare a chiudere ogni volta sulla tre quarti su Perisic. Ancora Skriniar qua, prova una verticalizzazione che le riesce male. Bastoni intercetta per un attimo. Poi Correa torna sulla palla e serve D'Ambrosio. Ancora D'Ambro, largo Dumfries. Forse dell'Inter Dumfries è quello entrato meno in partita. È vero, si è visto poco. Sì, non è riuscito molto a incidere. Ora Perisic ne supera tre, grande palla per Correa, tira Correa, tira, porta vuota, fai gol Correa, ma fai gol a porta vuota. Mamma mia, due ore e un quarto, ci chiudono lo specchio. Lì, davanti alla porta, devi fare gol Correa. Tre volte ti è capitata, tre volte. Si correa lento, in area di rigore, capita l'occasione, ma viene murato in più di una volta. Uno qua e due qua. Sì, diciamo che con maggior celerità avrebbe potuto dissare il risultato. Ci fermiamo ragazzi. 1-0 per l'Inter. Lo voglio rivedere. Allora, azione sulla tre quarti offensiva di destra dell'Inter. 1-2, Dumfries si libera per ricevere la palla di Barella. Va a terra in uno scontro con Bastoni. Non ho visto se è stato uno scontro o un fallo. Ma se fosse stato un fallo di Bastoni, e questo, ripeto, non lo so perché devo vedere il replay, ha rischiato Bastoni perché poteva essere... Era già ammonito. Sì, era già ammonito. Però, ripeto, magari è Dumfries che è andato contro Bastoni, quindi non lo so. Gran gol di Brozovic. Titola la nostra regia. Inter avanti all'intervallo. La rete del Corato al 31esimo minuto di gioco. A sugellare, a fine primo tempo, il risultato di 1-0 per l'Inter. È un Inter che ti è piaciuta? Filippo, sei soddisfatto? Sì, sì, no, mi è piaciuta. Fisicamente mi sembra un Inter messo abbastanza bene. Ha provato a fare gioco palla a terra, anche se non era facile perché lo Spezia chiude bene gli spazi. Gioca compatto nella propria metà campo, però le trame sono riuscite. Si è trovato spesso per i sull'intervallo, un pochino meno Dumfries sulla destra. Tanti gli inserimenti dei centrali difensivi in fascia, quindi di D'Ambrosio soprattutto, e anche un pochino di Bastoni un po' meno del solito, però ne fa più D'Ambrosio sulla destra che Bastoni sulla sinistra. Bene il centro campo, c'ha la Noglu molto bene, Brozovic molto bene. Sì, dai, devo dire un buon primo tempo. Correa? Così, così. Tra poco vediamo, in generale, soddisfatto? Ho visto la solita Inter, cioè niente di nuovo. Noi abbiamo sempre avuto dei primi tempi approcciati con grande lentezza, e questo non è stato assolutamente diverso dal solito. Credo che nel secondo tempo qualche cambiamento lo farà Inzaghi, e mi riferisco soprattutto all'Autaro. Per ora tutto bene, grande prova di D'Ambrosio, che non a caso è stato anche intervistato come migliore del primo tempo. Per ora non è ancora entrato in partita a Dumfries, mi aspettavo molto di più da lui, ha avuto alla fine, proprio al 45esimo, un'occasione per poter raddoppiare. Ma solita Inter, insomma, dai, niente di più, niente di meno, ma va bene così, per ora sono tre punti e ci metto la firma. Decisamente. Lorenzo, invece, il tuo Spezia? Il mio Spezia, secondo me, aveva pensato la partita giusta e c'è stato quell'errore. Cioè, nel senso, l'Inter ha meritato un certo punto di accelerare. Però se avete visto, ha tentato. Capivo io Filippo che si lamentava perché perdeva l'attimo dei tiri, perché probabilmente è stato detto di tirare molto da fuori i giocatori. cercavano di prepararsela, ma comunque secondo me era anche un po' merito dei giocatori dello Spezia che riuscivano a far perdere l'attimo alle bocche da fuoco interiste, secondo me. C'è stato anche un po' di partita dello Spezia preparata proprio in questo modo. No, dicevo, Lorenzo, scusami, il tabellino a proposito è impietoso. 30% di possesso palla per lo Spezia, 0 tiri in porta. No, il tabellino è impietoso. Infatti noi abbiamo fatto una partita sicuramente più difensiva cercando di fare qualche ripartenza. È stato bravo Andanovic. Comunque eravamo stati anche pericolosi. Quindi se avessimo capitalizzato, magari ora qui staremmo parlando di un 1-1. Con tutto che l'Inter, come possesso palla, come atteggiamento, eccetera, merita sicuramente di essere. Però, Lorenzo, permettimi, c'è un'anomalia. Giustamente tu hai detto, imposti una partita difensiva, quindi grande attenzione, grande aggressività. Un primo tempo. Sul gol, oggettivamente, bravo Brozovic, bravo D'Ambrosio, ma poca attenzione da parte dei difendenti dello Spezia perché non puoi lasciare tutto quello spazio. Cioè, se tu chiedi alla tua squadra di essere compatta, non puoi lasciare quell'autostrada che poi libera Brozovic al tiro. Brozovic bravissimo, perché la mette dove provvedere non può arrivare. Però lì, secondo me, c'è una mancanza proprio di compattezza difensiva. Quindi Franco si è d'accordo con me, nel senso che abbiamo cercato di pensare a una partita compatta, eccetera, abbiamo fatto un errore. Sì, assolutamente, Lorenzo. Quindi non era pensata male da Motta per poi mettere i vari verdi, eccetera, magari dal sessantesimo in poi. Insomma, come sta facendo ultimamente? Secondo me, guarda, lo Spezia non ha fatto nemmeno poi tantissimi errori, eh. Perché l'Inter è andata due volte vicino al gol. Quando ha segnato e poi con quella doppia ribattuta su Correa. Poi altre occasioni non mi sembra che l'Inter le abbia avute. No, ma lo Spezia, secondo me, ha fatto la partita che doveva fare. Ci ha chiuso tutti gli spazi. Noi siamo stati bravi a crearne qualcuno, perché siamo usciti bene due o tre volte dalla nostra metà campo palla al piede con i tre davanti dello Spezia che pressavano. Siamo riusciti a uscire da quel pressing e trovare degli spazi tra il centrocampo e la tre quarti. Poi, secondo me, in quella situazione, noi abbiamo storicamente quest'anno un pochino di problemi perché non riusciamo a trovare spesso la soluzione giusta negli ultimi 25 metri. Però abbiamo trovato lo spazio spesso per arrivare lì. Secondo me è vero, c'è spazio quando Brozovic tira, ma per me è più merito dell'azione di Brozovic d'Ambrosio che è il demerito dei giocatori dello Spezia. Brozovic è seguito a uomo. Nel momento in cui Brozovic lancia d'Ambrosio, Brozovic è schermato dal giocatore dello Spezia. Brozovic lancia e parte. Il giocatore dello Spezia probabilmente rimane un po' in ritardo. sulla marcatura che era lì e non è facile perché deve tornare indietro. Brozovic tira un pallone che, in una situazione normale, tu aspetti che si abbassi. Brozovic lo copisce qua. No, è bravissimo. Non anticipato che lo stava per rincorrere. Nella conclusione è assolutamente perfetto, però si vede proprio un difensore dello Spezia che invece di andargli incontro, perché era sicuramente in ritardo, si gira e ovviamente Brozovic... Cioè, manca il difensore dello Spezia in aria. Chi marca Brozovic... Cosa, cosa, Lorenzo? Dicevo, su Inzolà, noi alla Spezia abbiamo finito le parole, perché l'anno scorso con l'italiano aveva fatto molto bene. È vero. A un certo punto sembra che il ragazzo abbia anche dei problemi personali, per cui non lo giudico. Comunque è molto indisciplinato, ha questi tipi di atteggiamento, probabilmente Motta l'ha tolto in maniera punitiva. Ha detto, piuttosto metto Antiste, questo ragazzo di 19 anni, vai fuori. Anch'io credo che sia stato così, anche secondo me. No, è po' diario. Grande palla per Lautaro che si gira! Col sinistro! Palla che va su Erlich, spiazza Provedel, ma la palla esce di un mezzo metro alla sinistra del portiere dello Spezia, che era stato spiazzato dalla deviazione del suo difensore. Corner per l'Inter, già battuto, corto, palla per Lautaro. Non ho vista dentro. Non ho vista dentro. Palla fuori, alla destra di Provedel, Lautaro vicino al gol ancora. Bella palla di Barella con l'esterno per Lautaro che si gira bene, colpisce con il sinistro e bravo Erlich a deviare la palla e a metterla in calcio d'angolo. Comunque sì, se comette a Gomotta ha detto io non posso stare dietro a te, amico mio. Esce dal campo. Ma uscita di niente, veramente di niente sta palla. No, ci sta, ci sta. È probabilmente punitivo, però a questo punto un giocatore che si comporta così non lo fa neanche per scendere in campo. Ancora pericoloso Lautaro qua. C'era un calcio d'angolo e non sotto in dieci. palla fuori di fuoco. Inter molto pericoloso. Barella può trovare spazio per Sanchez. Cambia tutto Sanchez sulla sinistra, ci arriva Perisic. Il controllo non è facile, ma è bravo. Ancora Perisic contro Giasi. Arriva al cross. Lautaro deviazione! Goal, Antti! Non so che c'è il tocco forte. Martinez! È il gol! 2-0 per l'Inter. L'assist lo fa. Sempre Perisic. Cross a giro. Entro l'area di rigore. Palla che attraverso l'area. C'è solo il tocco con la punta di Lautaro che inganna Provedet. Si insacca dall'altra parte. 2-0 per l'Inter Lautaro. Filippo, calma. Ci pensa Lautaro. Ci pensa Lautaro. Era già andato vicino al gol due volte. Questa volta è la volta buona. Rivediamo il grande cambio di fascia di Sanchez. Il grandissimo stop di Perisic. Vediamo se è buono il gol. Tutto buono. Sì, tutto buono. Tutto buono. Tutto buono. Sto cercando di capire come con l'esterno destro. Lo ha uncinato con un mezzo esterno. Che giocatore. Con un mezzo esterno destro. Con Perisic che dalla sinistra la mette in mezzo. Lautaro praticamente quasi spalla la porta. Zampata con l'esterno destro. Palo lontano. Non ci arriva a provvedere. Perché fa un controllo aereo. Molto intelligente Lautaro. Fa un gol difficilissimo Lautaro. È un gol non complicato. Questo è istinto. Questi sono i gol per i quali in tutta Europa vogliono un calciatore come lui. Esatto. Ah, quindi tu l'hai già liquidato Mario. Già pronto a partire. No, no in quel senso. Nel senso che ha un grande mercato perché è un calciatore pazzesco. Si gira in un secondo, in una frazione di secondo e vede la porta. Magari con non tantissima continuità. Sì, è stato due mesi senza prenderla mai. Ho capito, ci mancherebbe se no lo porti a fare il pallone d'oro. Comunque, mamma mia. Mario è in surplus. È pazzesco il pallone d'oro. Devo dirti una cosa. Sui calciatori argentini hai un ascendente. Ho un ascendente sicuramente. Hanno un ascendente nei miei confronti anche perché io tipo Argentina. Ah, ok. Non Italia. Italia, secondo me... Quell'anno lì, la semifinale Italia-Argentina eri uno di quelli che ha fischiato per Maradona. No, quello no. Non si fischia mai. Però... Però tenevi per qualcun altro. C'è un motivo. A parte che la mia famiglia è originaria argentina. Beh, se sei argentino, capisco. Quindi va bene. Però, nonostante quello, devo dire che l'Argentina ha sempre avuto in campo dei calciatori che sembravano dei rocker. Più che dei calciatori. Cappelli lunghi. Eri un fan di Osvaldo. Cambi per l'Inter. Sì, c'è una punizione intanto per lo Spezia. Tre quarti di sinistra. Ci va verde col Mancino. Sono due cambi dell'Inter. Ah, ecco, tanto c'è ancora il secondo cambio. Fuori Cialanoglu, dentro Vidal. Fuori Dunfries, dentro Darmian. E risparmiano per il Darmian. Sul secondo, Dunfries-Darmian sono assolutamente d'accordo. Su Ciala-Vidal, insomma... Lo risparmia per martedì. Sempre un po' di pausa. No, però un quarto d'ora, ragazzi. Veramente. Ma sì, dai, c'è già 2-0. Dai. Manca un quarto d'ora per farlo quel cambio. Stava facendo molto bene. Comunque, 75 di gioco. Punizione per lo Spezia. Tre quarti di sinistra. Verde col Mancino. Lorenzo, deponi le armi sullo 0-2? Aspetta, aspetta che c'è la punizione. Vai, vai, vai. Parte verde, cross in mezzo. C'è ancora Erlich che ha questa occasione sulla testa. Alto sopra la traversa. Lorenzo, stessa domanda. Non depongo ancora. Non depongo. Ah, aggressive. Eh, dobbiamo crederci fino in fondo. Lasciategli speranza. Bisogna provarci, però, secondo me, da premiare l'idea di Lautaro. Cioè, un attaccante che pensa di intervenire così per fare un gol di quel tipo, chapeau, perché ha fatto un gol pazzesco. Sì, sì, sì. Il coefficiente di difficoltà è altissimo, elevatissimo. Rapace. Sì, tipo per tutto il stile. Beh, ci ha messo il piede adesso, non esageriamo. Eh, no. Ebbè, ci ha messo... Non è che ha fatto una rovesciata. No, ma ragazzi, su un crosteso ci metti l'esterno e sei... Sì, ma l'unica roba che poteva fare. Non è che ne avessi alternative. Ci ha provato. Insomma, vediamo degli obbrogli. Ha fatto un gran gol. Si è creato tre occasioni, tre minuti. È entrato bene. No, ma quello è un gol molto complicatissimo. Ma gli interisti che grittavano Lautaro, eh? Lo fischiavano anche, cioè... Ma chi? Gli interisti. Ma chi? Sanchez, Sanchez, Sanchez... Anticipate, attenzione che sbaglia, però è il grande colpo di tacco di Lautaro per Sanchez, che vince un rimpallo, palla sul destro in area di rigore, tira! La grande parata di Provedel. Bravo. Grande parata di Provedel, ma tutto bene. Sanchez, Lautaro, che davanti hanno cambiato la partita. Qua Lautaro... Sanchez vince un... No, qua vediamo la fine dell'azione, ma c'è un contrasto vinto al limite dell'area di rigore sul lato corto. Lautaro di tacco dà la palla a Sanchez in area. Qua invece il tacco di Barella. Ora c'è fallo di D'Ambrosio. Calcio di punizione. D'Ambrosio dice ma non ti ho toccato al numero 43 dello Spezia, che è Nicolau. Si fa male il 43. Vediamo il colpo di tacco di Lautaro, di Barella. Ma cos'è sta roba? Vabbè. Ho sentito il contatto. Sì. Dolore atroce. Rivediamo. Sì, ma questo è un gol distinto. È proprio un gol di una punta che ha istinto. Guarda come batte il pugno. Attenzione che Lautaro già dall'altra parte può entrare in area di rigore dalla destra, poi decide di temporeggiare. Salta l'uomo. Ancora Lautaro sovrappone Barella. Grande palla per Barella, che però deve tornare indietro. Serve D'Armian. Anche Calloni. D'Ambrosio. Sanchez, che ha tenere palla. No, si recupera Lautaro in zona difensiva dalla Barella. Dalla Barella. Attenzione lì. Buono, tocco di Barella. Subisce fallo. Bravo, bravo, bravo. Cartellino giallo anche per, credo, per Nicolau, che ha fatto fallo su Barella. Calcio di punizione per l'Inter. Minuto 86. Quattro minuti alla fine. Più recupero. Non è che finisce questa via Crucis, Filippo. Quanto manca? Qua è stato bravissimo, mi dà l'inchiusura. Quattro più recupero. Abbiamo fatto una stupidata a metà campo, ancora una volta nella gestione, abbiamo regalato palla allo Spezia, però ce la siamo cavata poi in qualche modo. Ora Sanchez ancora per Lautaro, va a recuperare Brozzo, ottimo. Ancora Barella, c'è spazio per avanzare. 86 di gioco, Barella va a Brozzo, limite dell'area di rigore, siamo qualche metro fuori. Ora si chiude lo Spezia, Barella prova ad andare in mezzo a due e ce la fa. Arriva il pallone per Lautaro, si gira. Scrinier, Lautaro, palleggiamo troppo, non tiriamo e alla fine lo Spezia si chiude. Poi addirittura Perisic prova un tiro da 30 metri al volo, una cosa che se fosse venuta... Ciao. Era veramente impossibile, un miracolo. Lorenzo, sei ancora in atteggiamento da sommossa sullo 0-2 all'87? Non molliamo mai noi. Non mollate. Certo, ormai la partita è troppo indirizzata, però non vogliamo andare. Leggermente, anche perché mancano tre minuti più recupero. No, ma più che altro perché mi sembra molto complicata Lorenzo. E nonostante Gianni, eh. No, ma lo so, è ironia la mia, però sai com'è, no? E' esattamente la partita che c'è vita, c'è spiegato. E' esattamente la partita che avevo previsto, cioè l'Inter che gioca senza fare fatica, fa un gollettino per tempo e chiude la partita a minimo sforzo, massimo risultato. E' esattamente quello che si aspettava. Spezia, delusione, perché non ci ha neanche provato, quando ci ha provato con idee confuse. Ma non è vero che non ci ha provato. Cos'è? Beh, inizio secondo tempo lo Spezia è stato pericoloso. Si ha avuto due o tre situazioni, due o tre fiammate importanti. Due occasioni non si negano a nessuno. Però parate di Andanovic vere, occasioni vere. No, e allora, attenzione. Attenzione, limite dell'area di rigore, maggiore, gol. Partita riaperta, si parla troppo presto ragazzi, io ve lo dico, capisco le guffate, ma si parla troppo presto. 88 di gioco, maggiore. Gol di maggiore all'improvviso per lo Spezia, quando siamo all'88. Crosta alla sinistra. Maggiore tira anche in modo un po' strano, con un interno destro. Vediamo se Andanovic c'è responsabilità. Assolutamente no. Ha trovato un grande gol di Maggiore dal nulla. Una quaglia con le piume. Trova un angolo incredibile Maggiore. Lorenzo, in diagonale. Ma proviamo mai, poi non ce la faremo, però almeno un po' di soddisfazione. Ma sì, dai. Allora, io il mio pronostico l'avevo fatto 2-1. O 2-3-1, ho detto Mario, io sono testimone. Non lo dici più? No, 2-1-3-1. Ah, 2-1-3-1, l'avevi detto. O 2-1-3-1. L'ho detto all'inizio. Aspettavi con Hans il gol di Maggiore. Come finisci la finissima? Non vai a giocare al casino. No, no, no. Io ammetto che quando mi è stato chiesto l'ho fatto. Il gol davvero che... Vabbè, adesso ragazzi, a parte gli scherzi, è arrivato dal nulla questo gol. Sì. Sì, ma ragazzi, ma le pari di calcio sono così. I gol arrivano anche dal nulla. Sì, dal gol di calcio. Ecco, questa è una gufata. Vai! Ancesto invece è una gufata. Al novantesimo, al novantasettesimo. Fallo laterale per l'Inter. Un minuto al novantesimo. Poi aspettiamo il recupero. Soffre Simone Inzaghi. Ecco, esatto, Lorenzo, parlavi di recupero. Quanto ti aspetti? 5 minuti di danno, no? Con i vari cambi. Allora, ma non tanti. Già dici Filippo. Tu che sei stato attivato. Credo 4 minuti, probabilmente. Secondo me è 3-4. 3-4. Basta Gianni con fare fino alla fine. Anni da notto. Filippo. Barozovic recupera palla, poi allarga bene per Perisic. Da Vidal. Vidal fa una cumplanare per arrivare sulla palla, ma serve Perisic. Verticale Sanchez. 1-2 Perisic. Perisic. Ancora per Sanchez. Si limita dell'area di rigore. Tira Sanchez! Di poco alto sopra la traversa. Solo a noi lo Spezia ci ha messo la pera al novantunesimo. Buona ripartenza dell'Inter. Il tiro di Sanchez. Salto di poco sulla traversa. Bella la conclusione del cileno. Si è abbassata anche di te. Ah, qua Perisic si addormenta. Ma perché? Attenzione allo Spezia. Attenzione che c'è spazio. Il tiro fuori di molto. Alla destra di Andanovic. Qua abbiamo rischiato quattro minuti di recupero. Qua il pallone all'indietro di Vidal è giusto. Solo che Perisic rimane fermo con i piedi piantati per terra. Non riesce ad arrivare sulla palla. Brozovic è troppo in ritardo. Non può arrivare. Praticamente con un movimento ne facciamo fuori tra i dei nostri. Lo Spezia riparte. E poi il sinistro mi pare di Agudelo. Fuori di molto alla destra di Andanovic. Lorenzo Agudelo se l'è giocata male qua. Secondo me sì. Poteva avanzare. Però è già due volte che fa queste cose di istinto. Si vede che se le sente nei piedi. E invece poi è impreciso. Fallo di Vidal. Girati Vidal. Ma porco giuda. Siamo con Filippo. Tre al termine. Sì. Provedel. Bello il gol di Maggiore comunque Paolo. Molto bello. Molto bello. Molto molto bello. Io tutto l'anno che rimproveravo a Maggiore di essere un giocatore a tutto campo. Bravissimo. Di andare poco alla petizia. Di avere le due fasi però di non aver mai segnato. Invece si è sbloccato. A noi può servire per il proseguio della nostra lora. Ciancio lungo di Corvedel. Molto lungo. Su Andanovic che non ha problemi. Tienila lì calmo Samir. Dove cavo? Perché hai fretta? Ma perché hai fretta? Calmati. Calmati. Vedi che ti ho ascoltato. 91 minuti. Fatta la finita. Due minuti e mezzo al terreno. Tre minuti e mezzo al termine. No. Scusate. Due e mezzo. Due e mezzo al termine. Andanovic. Allarga per Lautaro. Vidal di testa. Buono per Sanchez. Non è fuori gioco. Sanchez. Sanchez. Sanchez aspetta Barella. Ma perché? Ma perché? Ma cosa ha fatto Sanchez? Barella era da solo davanti alla porta. Ha dato la palla a Vidal che non ci poteva arrivare. Ma cos'è sta roba Sanchez? Cos'è gli è capitato Sanchez in testa in questo momento? Mamma mia. 20 secondi di orrore tra la difesa dello Spezia e Sanchez. Non so chi più brutto. Recupera Brozovic. Allarga per Barella che prova a andare via sulla destra. Barellino chiama palla a Sanchez. Guadagna un fallo laterale. Barella no. Il rimpallo sfavorisce il nero azzurro. Fallo laterale per lo Spezia. Inzaghi chiama i suoi al pressing. Fallo laterale. Zona difensiva di sinistra. Lancio lungo. Alto. D'Ambrosio di testa. Brozovic recupera. Poi serve Vidal. Coprila. Madonna quanto è lento Vidal. Vidal è inguardabile. Perisic. Perisic. Perisic in area di rigore dopo aver vinto un rimpallo. La mette fuori sull'esterno della rete. Chiama palla a Lautaro. Si arrabbia molto perché era da solo sulla linea di porta. Effettivamente qua Perisic poteva metterla in mezzo. Non l'ha fatto. Provedere. Rimessa dal fondo. Un minuto e quindici alla fine. Lancio lungo. A scavalcare il centrocampo di testa. De Vrai la rimette dall'altra parte. Sanchez fermato. Ci Lautaro che però si invola in porta. Sanchez da solo. Servito Sanchez. Gol. Sanchez. Alexis Sanchez. È il nino meraviglia. Pone fine alle nostre sofferenze. 3 a 1 per l'Inter. Caro Solanoli. 3 a 1 per l'Inter. Alexis Sanchez. 93 minuti e 15 secondi. Asis di Lautaro. Retevi Alexis. Solanoli. 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 Vai che balla anche lui. Vai. Che tanto torni in primo dopo. Tranquillo. Col di Sanchez. Cominciamo con l'elenco di quelli che mancano. La difesa Lorenzo era già andata all'elenco dei problemi. Bravissimo. Paolo ti do la notizia. Dicca dicca. Non ci credo più. Ma no. Mol di speranza. Lorenzo. Mol di speranza. C'è ancora da crederci. Comunque. O 2 a 1 o 3 a 1. Bravo. Dopo ci dai numeri. Aspettiamo solo il fischio finale di Maresca. Era ancora chiusa a 10 minuti dalla fine. I 4 minuti di recupero sono finiti. Non so Maresca cosa stia aspettando. Forse per il gol altri 30 secondi. Mette il fischietto in bocca. Terza vittoria di fila per l'Inter. Su un campo difficile. Ottima Inter. Secondo me tra primo e secondo tempo. A parte quei 7-8 minuti di sbandamento. A inizio secondo tempo. Dove l'Inter ha rischiato davvero di subire l'1-1. Poi è tornata a essere una buona Inter. Vittoria. Penso di poter dire assolutamente meritata. Terza vittoria di fila. Ottimo segnale. Bravi ragazzi. Bravi bravi bravi.